Palla per Grifoni La scarica per il numero 10 Prova la conclusione Poi ci riprova, attraversa Di Federico Parte il tiro di Federico In porta, si distende L'estremo difensore Federico, avanza Federico Federico la passa per il compagno di squadra Sella divora Mariotti Davanti il portiere Inclusione, ribattuta Baldacci Baldacci per il numero 10 La deviazione, calcio d'angolo Ci ha provato Berretta La imposta il Caffè Spartaco Federico avanza Va Federico da fuori aria, prova il tiro Si distende il portiere Altra occasione per il Caffè Spartaco Cross in mezzo Poi c'è Federico la botta Alto Colpo in tacco Ottimo per Berretta Berretta avanza Poi il tiro, palo Di Fofi Monaco Palla per Mariotti La riesce a mantenere in campo Entra in area di rigore Mariotti Il vantaggio del Caffè Spartaco Con Mariotti 1-0 Ha fatto tutto lui Sul pallone Parte il tiro di Federico Roberto La prende sulla linea il difensore Parco perderà il compagno di squadra Davanti il portiere Tocco sotto Il miracolo Incredibile del portiere del Frosinone All'ultima azione del primo tempo Che termina qui Palla subito Battuta Caponetti Caponetti Dall'altra parte Tiro a giro che va fuori Fofi Per Marini Palla ancora per Fofi Da lontano Ci prova Baldacci Si distende il portiere Palla per il numero 6 Avanza il numero 11 Che prova Il tiro Poi esiste Palla per il numero 7 Davanti il portiere La prende Il numero 8 Federico Roberto Lungo linea per Mariotti Mariotti in area di rigore Mariotti Bravo qui Bravissimo Vartolo Angolo battuto Federico Roberto Se ne vanno Di rigore Segna Federico Roberto Il gol del 2 a 0 Per il caffè Spartaco Prima Mariotti Poi Roberto Federico 2 a 0 Mariotti 1-2 Grossi in mezzo Cercare il numero 11 Che la prende Davanti il portiere Salta il difensore E segna Il gol del 3 a 0 Pasquetto Per chiudere la partita Campista perde Palla Mariotti Gli ruba palla Palla per Pasquetto Ancora Pasquetto La doppietta di Pasquetto 4 a 0 Caffè Spartaco E adesso È veramente chiusa Grifoni Cross al limite Della linea di porta Fuori Poi Pasquetto Colpo di tacco Grifoni Prende palla Grifoni Arriva Fofi Fofi Super gol di Fofi 4 a 1 Per il Frosinone Passa in difesa Fischia alla fine L'arbitro della partita Caffè Spartaco Batte Frosinone 4 a 1